Gerard, ci vengo da lei. Sappiamo, so benissimo che lei ha anche la sua lettura delle statistiche, dice che quelle ufficiali non bastano e dopo ne parleremo di sicuro. Però intanto le volevo chiedere, visto che è passato ormai più di un anno dallo scoppio della pandemia, si può riuscire a tratteggiare un bilancio dell'impatto che ha avuto il Covid sulle scelte dei consumatori globali? Allora io apprezzo questi numeri e sono sicuramente positivi. Voi dicevate giustamente che l'Italia deve in questo momento, forse nostro malgrado, dipendere dalle esportazioni. Però attenzione, perché noi abbiamo un'incidenza sul PIL dell'export intorno al 32% e con i numeri che ci ha detto il collega positivi di crescita sostenuta, 4-5% nei prossimi 2-3 anni, questo rapporto export sul PIL, che ovviamente non crescerà del 5%, continuerà ad aumentare. Quindi noi abbiamo un po', faccio un po' l'ipotesi di un antibiotico, abbiamo in questo momento la necessità ma non possiamo assolutamente dipendere perché significa che la nostra economia, per quanto noi possiamo fare quello che è nei nostri limiti, attenzione avendo dei limiti anche strutturali, non possiamo battere moneta, non abbiamo libertà sul budget, dipendiamo anche dalla domanda esterna dei nostri principali clienti, cioè Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Cina e Germania. Questi cinque paesi fanno la metà di tutto l'export e sono due nella zona euro, Cina, Stati Uniti e Gran Bretagna fuori dalla zona euro, quindi abbiamo il problema del Brexit. Diciamo, mi faccio concludere con questa frase, la ripresa della nostra economia è imprescindibile da una forte domanda del Made in Italy da parte di Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Germania e Cina. Senza questi quattro purtroppo noi potremmo soltanto cercare di limitare i danni e questo va bene adesso perché adesso gli Stati Uniti stanno riprendendo, va bene che la Cina sta riprendendo e la Germania è forte importatore dei nostri prodotti, però attenzione a non dipendere troppo ed era quello un po' quello che cercavano di fare. Noi dobbiamo sfruttare questa forte spinta per ristrutturare la domanda interna. Sì, sì, il discorso che facevamo inizialmente, ovviamente essere un'economia votata all'export dà dei risultati positivi nel momento in cui il mercato globale tira perché ti comprano, però il fatto di avere una buona fetta della propria economia come mercato interno ti mette al riparo da questo genere di cose. Chiarissimo, torneremo subito da lei. Pigeraci, vengo da lei prima di andare da Maximilian Cellino del Sole 24 Ore. Lei anche nel suo precedente ruolo di sottosegretario aveva le deleghe sul commercio estero, diciamo che parte, almeno una parte dei meriti, diciamo, del fatto che stiamo riprendendo anche come export è probabilmente dovuto anche a suoi discorsi in giro per il mondo, ricordiamo alcuni suoi viaggi. Prima però ci diceva che essere troppo dipendenti dall'estero può essere un problema. Un'economia come quella italiana può davvero, diciamo, puntare molto sul proprio mercato interno? Oppure è del tutto normale per come siamo fatti che questa sia la situazione? La ringrazio alla domanda. Non solo possiamo, ma dobbiamo, perché proprio per la complessità della catena globale, diciamo, delle tensioni geopolitiche, si parla di decapling tra occidente e oriente, noi in nessun modo, voglio essere molto chiaro, in nessun modo possiamo continuare su questa strada. E lo dico, appunto, come lei ha gentilmente ricordato, ero io promotore dell'export, ma sapevo che, appunto, è una spinta, ma non può essere la struttura fondamentale, come è stata negli ultimi vent'anni. Negli ultimi vent'anni, tra consumi, investimenti ed export, il PIL ha fatto, praticamente, 0% dal 2000 ora, solo grazie all'export, perché gli investimenti e consumi sono scesi. Ed è ovvio che questo trend non è assolutamente sostenibile, quindi noi dobbiamo, e altri paesi lo hanno fatto, lei prima citava un po' la mia conoscenza della Cina, le do un dato interessante. Tra l'altro lei adesso si trova in Cina perché... La Cina avevano esattamente lo stesso rapporto export-PIL, un terzo. Noi siamo rimasti a un terzo, e addirittura ora saliamo, la Cina è passata dal 32% al 18%, quindi, diciamo, questo grande, che noi chiamiamo la fabbrica del mondo, loro hanno capito, già nel 2010, senza dircelo in silenzio, si sono praticamente disconnessi dalla domanda esterna. E per questo la loro economia va bene, perché sì, loro esportano, ma adesso la metà rispetto a noi sono su PIL, quindi noi dobbiamo assolutamente fare questo. Anche gli Stati Uniti hanno un'incidenza su PIL molto basso, su PIL molto basso. Ci deve essere qualche piccolo problema di collegamento, nel senso che lei non mi senta. Una delle domande che le facevo è se si trova in questo momento in Cina, perché c'è una grande differenza tra il momento in cui lei inizia a parlare e il momento in cui noi lo ascoltiamo, probabilmente dovuto anche a una distanza. No, no, sono a Shanghai adesso, vedo qui l'economia che va avanti, che riparte. Allora, tornerò subito da lei a Shanghai, magari lo possiamo anche scrivere. Grazie, secondo lei è cambiata un po' l'aria o poi tutto sommato non è cambiato niente? No, dicevano, Vice Ministro ha ribadito, penso, le parole che forse erano state un po' travisate negli anni scorsi, anche i governi precedenti erano esattamente così, geopoliticamente nella Nato con gli Stati Uniti e poi commercialmente, giustamente, come ricordavamo prima, noi dobbiamo poter fare affari con tutti, anche perché gli Stati Uniti, i nostri alleati principali, sono i primi a voler fare cosa? A voler fare affari con la Cina, quindi non ci sarebbe motivo per cui noi non dovremmo fare lo stesso. Quindi è chiarissimo e non c'è stato un cambio, forse è stato, se mi consente, dottor Bignami, approfitto, è stato un po' forse strumentalizzato da una certa narrativa. Noi eravamo veramente in un'alleanza solida atlantica, volevamo soltanto aiutare le aziende della moda, del vino e dei macchinari, del tutto, della moda e dei mobili. Il vino cinese è anche attraverso la via della Seta, che è il commercio, nel senso che non è una cosa così campata in arrivo. Esattamente, noi abbiamo la domanda, possiamo dipendere dall'export? Ma io vi ricordo, noi siamo un paese che non batte moneta, quindi non possiamo svalutare, non abbiamo politica commerciale indipendente perché fatta dall'Unione Europea, quindi attenzione, ci siamo veramente, sono veramente preoccupato di dipendere da una cosa che è completamente fuori dal nostro controllo. Grazie a tutti.